Angelo è l'onorevole Angelo Lombardo, fratello del governatore della Sicilia Raffaele. Chi parla invece è Giovanni Barbagallo, stimato geologo, nonché uomo di fiducia di Enzo Aiello, il capo di Cosa Nostra a Catania. Il 4 maggio del 2008 il fratello del governatore Lombardo si incontra in questa villetta nella campagna tra Enna e Catania con Barbagallo, qualche imprenditore e il boss di Cosa Nostra, Alfio Stiro. C'era Alfio Stiro condannato a 4 anni e mezzo proprio per mafia? Sconosciuto, sconosciuto. Il quale dice di un candidato ad elezioni per il quale mio fratello dice che non potrà dare nessun voto perché ha altri candidati in quel comune. Ma stare solo seduti allo stesso tavolo con Alfio Stiro condannato 4 anni prima per mafia? Tanto per essere chiari, potevo andare io, avrei incontrato il signor Stiro, mai visto e mai conosciuto né da me né da mio fratello, il quale mi avrebbe parlato di politica, di affari eccetera. Non avrei chiesto io chi è lei e qual è il suo certificato penale. Raffaele Lombardo non chiede, ma dopo il pranzo del 4 maggio è il boss Alfio Stiro a chiedere e il suo genere viene candidato nelle liste dell'MPA, il partito di Lombardo. Nelle carte del processo c'era scritto che qui avevano lavorato tutte le famiglie degli Ercolano Santa Paola della mafia. No, ma io manco qui a Santa Paola. Chi è Santa Paola? Eh, è una famiglia importante. Secondo la ricostruzione della procura, che ha arrestato 47 persone, nella piana di Catania a comandare sono proprio Alfio Stiro, Enzo Aiello e i Santa Paola. Ma i Santa Paola sono famosi, dai, sono Cosa Nostra Catania, dai. Tu li conosci allora, tu li conosci? Le famiglie di Cosa Nostra hanno messo le mani su centri commerciali, parchi eolici e ogni tipo di appalto pubblico. Lo schema è semplice di come funziona la gestione del potere qui. Arrivano i soldi, che sono quasi sempre soldi regionali. Questi soldi vanno in appalti. Gli appalti li prendono sempre la stessa gente, questo viene deciso dalle cosche, e in questo caso per Palagonia, Rosario di Dio, lavorano, aprono i cantieri, prendono gente a lavorare e automaticamente diventano ricattabili. Si trasformano in voti e cresce il consenso elettorale. La sera prima, la sera prima della votazione, mangiavo otto sigarette, a parlare nel suo distributore Agip di Palagonia è Rosario di Dio, boss dei Santa Paola, condannato per mafia nel 2001. Ora questo l'Agip di Rosario di Dio? Rosario di Dio non esiste, non è nel momento che ne potete parlare. Posso chiederle solo se si vedeva spesso Raffaele Lombardo? No, non lo conosco. La notte prima delle elezioni, del 13 giugno 2004, secondo i carabinieri, Raffaele Lombardo mangia tabacco con Rosario di Dio e chiede voti per le elezioni del giorno dopo. Ma lei quando incontra Rosario di Dio già lo sa che è un mafioso? La sentenza è del 2001. Siamo in un distributore di benzina dove alla cassa e al banco stanno persone varie. Quella volta ci sarà stato il Signor di Dio. Che lei conosceva e sapeva essere un mafioso, perché ci ha parlato? Se il Signor di Dio ancora insista quanto vuole, se lei circola liberamente, può anche essere un evaso, ma io sicuramente non ho il dovere di saperlo. Si poteva non sapere chi era Rosario di Dio, un boss? Io penso che per un amministratore, per un personaggio che vuole avere un ruolo pubblico, non poteva non sapere. Perché un personaggio, soprattutto chi raccoglie migliaia e migliaia di consensi, non può non sapere chi sono i personaggi che comandano nei comuni contigui, attivi al suo. Chi parlava con Rosario di Dio l'anno scorso, due anni fa, cinque anni fa, sapeva di parlare con un boss oppure poteva pensare di parlare con uno normale? Uno che già ha tutta una storia criminale alle spalle, è impossibile, non da una scena. E' anche violento. C'era da indimidirsi solo a sentire il suo nome. Chi comanda in paesi come questi non ha bisogno di parlare. Lo si sa, basta vederlo. Dice quello, come diceva Nari, quello cumanda.